Come era facile prevedere c'è stata ampia condivisione su quelle che sono le priorità sulle quali concentrare l'attenzione e le azioni di Salerno Pulita nel confronto che si è svolto questa mattina tra l'amministratore unico della società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune capoluogo Vincenzo Bennett ed il neoassessore all'ambiente Massimiliano Natella. In particolare è stato fatto il punto sulle procedure per introdurre dei controlli che mirino a garantire il rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti ma anche come riattivare l'impianto di compostaggio. L'oggetto delle guardie ambientali probabilmente sarà la prima delle iniziative che noi metteremo in campo perché vorremmo con la collaborazione anche dei cittadini migliorare il servizio e migliorare anche il conferimento dei rifiuti. Le guardie ambientali in questo senso daranno una mano alla società e al comune di Salerno per poter andare in questa direzione. L'obiettivo che ha un termine un po' più lungo è quello dell'impianto di compostaggio che dovrà essere un fiore all'occhiello per la città di Salerno e ci potrà consentire anche di avere risorse da investire nello stesso settore ma in generale l'obiettivo è quello di rendere un impianto all'avanguardia anche sotto il profilo tecnologico e quindi migliorare di conseguenza tutti i servizi. L'assessore arriverà anche tra le sue mani la questione della gestione della manutenzione del verde pubblico che in questo momento attende che si sblocchi la situazione dei dipendenti delle otto cooperative di fatto fermati. Come si procederà? Qual è la sua opinione in merito? Io di questo problema me ne faccio carico sotto il profilo della gestione del servizio. Quindi ho chiesto già ai dirigenti coinvolti in questa vicenda di poter fornire una soluzione rispetto alla soluzione definitiva che noi dovremo portare avanti per garantire nuovamente il servizio ed eventuali disagi da gestire per quanto concerne lo stop delle attività. Ovviamente questo tema, come già detto in precedenza, ha una ricaduta sull'aspetto lavorativo, sulla questione sociale che riguarda i lavoratori delle cooperative. Credo che ovviamente questo debba essere un tema di interesse generale dell'amministrazione comunale, cioè dell'aggiunta, della prerogativa del sindaco, ma ovviamente è così. Sicuramente ci sono degli strumenti di legge che ci potranno consentire di poter tutelare i lavoratori e ovviamente parallelamente nel contempo proseguire con le attività cercando di arrecare meno di servizio possibile alla collettività e alla nostra cittadinanza. Grazie per la visione!